I fiori d'arancio, che in molti si aspettavano sarebbero arrivati in questo 2024, potrebbero essersi seccati ancora prima di sbocciare. I fiori d'arancio, che in molti si aspettavano sarebbero arrivati in questo 2024, potrebbero essersi seccati ancora prima di sbocciare. Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sembrerebbero essere più lontani. L'assenza nelle storie e nei post social del misterioso uomo hanno spinto molti a immaginare che tra i due qualcosa si fosse rotto e mentre le voci si fanno sempre più insistenti nessuno dei di. L'assenza nelle sbelen continua a pubblicare aforismi, foto con i figli e selfie, mentre Elio è trincerato dietro al suo profilo Instagram. Ma qual è la verità? È davvero già finita la loro relazione dopo circa sei mesi? Il matrimonio è annullato? A queste domande avrebbero risposto delle persone molto vicine a loro. Ma qual è la verità? È davvero. Alcune persone vicine all'imprenditore avrebbero confermato le voci di crisi che già da giorni alleggiavano sui due e anzi avrebbero affermato che i due si sono lasciati. Lorenzoni non avrebbe gradito le scelte comunicative della compagna prima sui tradimenti di Stefano De Martino e poi sui problemi con Antonino Spinalbese per l'affidamento di Luna Marie. Da queste due posizioni diverse sarebbero scaturite accese liti che avrebbero formato una crepa nel loro rapporto. In questo quadro si inseriscono le foto che ritraggono Elio da solo a una festa e il fine settimana che Belen ha trascorso in famiglia tra la natura ma senza il futuro ma solo il tempo ci svelerà la verità.